buongiorno a tutti benvenuti in questa puntata che verterà sulla differenza tra due software che per molte persone possono sembrare simili ma che in realtà hanno profonde differenze e andrebbero usato per scopi diversi parlo di word processor contro desktop publishing cosa sono lo mettiamo nel dettaglio i primi possono essere di tipo semplici quale not pay della microsoft che serve essenzialmente per inserire e salvare un testo all'interno di un computer tanto di più non può fare per cui per l'utente medio non è molto interessante più interessante invece sicuramente l'uso di un programma più evoluto quale microsoft word o libreoffice writer che tra parentesi sarà oggetto delle puntate successive cosa può fare un tipo di programma del genere in più dell'altro può fare ad esempio collezioni ortografiche che sono molto utili ma soprattutto può fare una formatazione del testo perché strutturare un testo attraverso la scelta di un carattere attraverso le caratteristiche di un carattere quali il corpo quindi l'altezza la sua presentazione quindi può essere grassetto può essere italico o sottolineato è fondamentale all'interno di una pubblicazione la formatazione del testo è molto più voluta quindi c'è anche la gestione della sillabazione dei rientri dell'interline e così via quindi è uno diciamo delle caratteristiche principali di questo tipo di prodotti altra cosa che possono fare questi software è l'inserimento oltre del testo di oggetti grafici intendo dire immagini, illustrazioni, grafici, tabelle e così via questo a onore del vero non è così semplice all'interno di questi software è un po' laborioso e potrebbe essere limitativo per chi vuole fare un prodotto dal punto di vista grafico un po' più complesso cosa che invece fa benissimo questo tipo di programma è l'inserimento di note a piedi pagina quale il numero di pagina è indispensabile o dell'intestazione nella parte superiore della pagina stessa l'altra cosa veramente importante di questo software è la possibilità di gestire il testo attraverso gli stili i stili possono essere di paragrafo di carattere o di pagina danno la possibilità di gestire in maniera chiara veloce anche sorprendentemente facile di testi complessi è una caratteristica che la maggior parte degli utenti medi non utilizza e questo è un peccato per questo le prossime puntate verteranno su questa caratteristica altra ultima ma non meno importante è la possibilità di creare degli indici automatizzati soprattutto su testi lunghi diventa veramente utile cosa si fa con un file fatto in un work process solitamente si stampa, si salva in questo formato per modificarlo o in formati per poterlo condividere quali file PDF o il file EPUB che sono quei file che servono per quei device nati appositamente per la lettura dei testi ad esempio Kindle della Amazon questi file qua invece possono anche essere esportati e possono essere inseriti in un altro tipo di software che è quello di cui parleremo adesso cioè il desktop publishing cos'è un desktop publishing quale in design dell'Adobe o per rimanere nel campo di software liberi Scribus è un software che di solito si usa in una fase successiva e che serve quando in un prodotto il testo non sia l'elemento unico o il più importante quindi serve quando noi vogliamo un prodotto che anche dal punto di vista grafico sia più complesso sia più curato pensate a una pubblicazione, una rivista o un giornale cosa si fa all'interno di questo software? si mettono dentro elementi oltre il testo e vengono gestiti in maniera libera dai grafici il testo quindi è possibile cambiarlo può essere importato anche addirittura lo stile di carattere, lo stile di paragrafo ma non è un software che nasce per creare il testo tutti gli oggetti all'interno di questo software vengono gestiti attraverso delle finestre che possono essere mobili e quindi possono essere mosse su tutta la pagina per dare la possibilità a chi ha un'idea grafica di muoversi in maniera libera cosa sono gli elementi che vanno messi qua dentro? sono quelli che abbiamo visto precedentemente e che sono di solito creati in software diversi ad esempio sono fotografie che nascono in Photoshop o in Gimp possono essere grafici e tabelle che possono essere creati e gestiti in Calc o Excel o illustrazioni che derivano da Adobe Illustrator o da Inkscape tutti questi vengono messi insieme quindi immaginate questo software come un contenitore dove posso gestire tutto quello che ho fatto con software in precedenza quindi come usarli e quando usarli se vi serve un prodotto semplice quali una tesina può essere consigliabile scriverla in un work processor e anche aggiungere lì qualche immagine se vi serve qualcosa di più accattivante, qualcosa di più curato dovete scrivere il testo in un work processor preparare gli altri elementi nei software che ritenete più opportuni e poi montarli tutti assieme all'interno di un desktop publishing questa è la differenza principale tra le due tipologie di programmi con questo vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!